buongiorno e ben ritrovati sulla pagina tour di peschiera siamo in piazza ferdinando di savoia centro storico di peschiera del garda siamo qua seduti al bar e vogliamo mostrarvi una cosa molto semplice simpatica e veramente interessante di peschiera ovvero la possibilità di visitare peschiera attraverso le audioguide che possono essere in formato classico si noleggiano direttamente l'info point di peschiera del garda vi verrà fornita l'audioguida che ha già una traduzione multilingua da selezionare e verrà fornita di auricolare singolo o di auricolare di gruppo che non è altro che un microfono che collegato all'audioguida fa sentire diciamo più persone l'argomento trattato appunto nella tabella storico nel punto che viene selezionato ma si possono usare anche col proprio telefono questo mio telefono si apre il qr code reader che è un'applicazione gratuita per chi non ce l'ha già installato e ad ogni tabella che si trova peschiera basta inquadrare il qr code della tabella e l'audioguida vi parlerà già con la lingua di riferimento della sim del telefono automaticamente senza neanche bisogno di selezione è un sistema che è attivo da anni a peschiera del garda sono già state superate le 90 mila download effettivi quindi è veramente molto richiesto perché perché è semplice perché è immediato perché è fornito di questa mappa anticata che è una mappa diciamo di fine ottocento anticata in cui viene proprio spiegato tutto il percorso di peschiera partendo dalla tabella numero uno che si trova a porta brescia scendendo nel centro storico ogni punto è corredato dal suo numero con una tabella storica col proprio qr code da inquadrare per esempio in questo momento siamo qua al punto 5 piazza peniano di savoia e stando anche seduto qua al bar bevendo un caffè con la mia audioguida con il cellulare posso ascoltare la storia della piazza comodamente bevendo un caffè ed è interessantissimo e questa è la cosa a cui noi teniamo molto cioè comunicarvi questa storia eccezionale che la peschiera del garda ma in modo veramente semplice così molto smart e non pesante quindi al piacere di venire a peschiera potete anche aggiungere quel poco di storia quel poco di cultura che secondo me rende il tutto al top ma sono qui oggi anche perché perché dalla prossima volta vi accompagnerà per il mercoledì claudia claudia è la guida presente presso l'info point peschiera una ragazza veramente in gamba e vi racconterà tutte e semplici le tabelle quindi sarà lei adesso ad accompagnarvi alla scoperta di peschiera alla scoperta di questo sistema che ve la farà conoscere ancora di più e lo farà in modo veramente eccezionale perché è una guida professionista molto simpatica e molto molto preparata io comunque ogni tanto ci sarò sempre in barca con giotto per mostrarvi qualche volta qualche curiosità ancora di peschiera le sue acque il lago le mura però adesso si comincerà questo tour veramente interessante 16 appuntamenti consecutivi alla scoperta di tutte le tabelle che ripeto rendono peschiera del garda unica nel suo genere in tutto il lago questo sistema esiste solo peschiera questa capacità e possibilità di scoprire peschiera in maniera molto semplice la trovate qua la trovate all'info point che ha aperto tutti i giorni a peschiera del garda ed è lì per accogliervi come noi siamo qua per mostrarvi peschiera con questi quindi vi saluto la prossima volta vi presenterò claudia e partirete con questo bellissimo tour insieme a lei grazie viva peschiera e viva il lago del garda grazie a tutti